Ma c'è un'altra faccia della medaglia, questa volta positiva, di cui vogliamo parlare qui ad Ippocrate. Abbiamo sentito prima dal report della Corte dei Conti che il Veneto è la regione italiana che spreca di meno, virgolette, soltanto il 17%, e molta parte di questi risparmi derivano anche sicuramente dall'utilizzo della telemedicina. Benvenuta la dottoressa Michela Gabrieli, che è collegata con noi, e la responsabile comunicazione del consorzio Arsenal, che raggruppa le ASL del Veneto proprio per la telemedicina. Benvenuta dottoressa. Salve e grazie dell'invito. Grazie a lei dottoressa. Allora, sono tantissime le attività che voi fate lì in Veneto per quel che riguarda la telemedicina e non solo. Iniziamo con i referti elettronici, che sono? Il referto digitale può essere in Veneto scaricato da parte del cittadino in ciascuna delle aziende che utilizza. Questo referto scaricato online significa per il cittadino un risparmio di tempo e di denaro che corrisponde più o meno a 12 euro per referto. Moltiplicato per il numero di referti che vengono prodotti in regione, risulta un risparmio totale di 72 milioni di euro ogni anno. 72 milioni di euro sono una bella cifretta. Questo per il cittadino. Contemporaneamente anche la struttura sanitaria può risparmiare. Poi voi avete messo in rete i medici di medicina generale. Anche questo, che cosa vuol dire e qual è l'utilità? Questo significa che quando il medico prescrive un farmaco o una visita specialistica, il dato arriva direttamente all'azienda. Ma non solo, significa anche che contemporaneamente il risultato degli esami del paziente torna poi alla cartella del medico di medicina generale. E quindi il sistema è sotto controllo. Allora, teleconsulto e telelaboratorio, altre due iniziative che avete messo in piedi lì in Veneto. Che cosa sono e quanto fanno risparmiare? Allora, il teleconsulto consiste nella possibilità tra due ospedali, uno centrale e uno periferico, di poter condividere immagini radiologiche e quindi la possibilità da parte dei medici di condividere una diagnosi. In base a questa diagnosi, il medico dell'ospedale centrale può decidere se trasportare il paziente presso il proprio ospedale. Questo significa evitare trasporti inutili, ossia evitare il 75% dei trasferimenti tra un ospedale periferico e un ospedale centrale. Dottoressa, poi voi avete attivato dei progetti specifici per monitorare particolari tipi di pazienti, per esempio il cardiovascolare, le broncopatie e il diabete. Si tratta di un progetto europeo di studio di sistemi appunto di telemonitoraggio da casa di pazienti cronici. I pazienti cronici sono i pazienti che non guariranno mai dalla propria malattia. Essi devono subire diverse visite nel corso dell'anno. Grazie a questi sistemi hanno a loro disposizione dei piccoli dispositivi a casa in grado di inviare a una centrale regionale i propri parametri vitali. Nel momento in cui questi parametri diventano allarmanti, addirittura il sistema è predisposto affinché venga attivato il pronto soccorso e quindi l'autobulanza. In modo autonomo. Allora, dottoressa, tutta questa tecnologia come viene recepita da persone di una certa età oppure non abituati a usare il computer? La risposta tra la cittadinanza in realtà è molto più positiva di quello che ci si aspetta. La percentuale attualmente dello scarico dei referti online in Veneto è del 57%. Questo perché nelle famiglie i giovani scaricano per i propri genitori o per i noni o per i vicini. Anche per quanto riguarda il telemonitoraggio dei pazienti da casa, molto spesso sono persone anziane, però i dispositivi sono studiati affinché siano semplici da utilizzare. Grazie, dottoressa. Grazie a voi.